Buongiorno, sono Steffa Cersa, nella ditta Cersa noi siamo mezzo conosciuto per cercare di amplificare strumenti acustici, quindi soprattutto le gitarre su un livello un po' più alto di quello che si si è aperta da un piccato da un piccatorino. Ecco, siamo qui a Sarzana, molto contenti, una bella fiera perché simpatica, un po' più rilext che se andiamo a Francoforte a Lua, la Nau. Per la chitarra abbiamo fatto un sacco di belle cose nuove, vi faccio vedere un po', abbiamo sempre fatto un sistema Under Settle, che però non è un piezzo, che è un microfono a condensatore, quello si chiamava Blue Stick, adesso abbiamo fatto un sistema nuovo, molto migliorato, cambiato delle tecnologie, che si chiama Lidia, è sempre un microfono Under Settle, che si mette nella sella, dentro è vuoto, prende il suono direttamente dalla sella e qui vedete è un microfono a condensatore miniaturizzato proprio al massimo, che prende quel suono lì, che soprattutto si può dire più naturale, rispecchia più il suono della chitarra e non ha quegli effetti da suono piezzo elettrico, ecco quello suono metallico, un po' più plasticoso. Questo è un brand new product, proprio uscito adesso, l'abbiamo fatto vedere i prodotti in più a Francoforte, per quello siamo anche qui a Sarzana per far vedere questa bella novità per la chitarra. In più, brevissimo, sapete che facciamo anche i amplificatori acustici, insieme in collaborazione con l'ASR, e siamo usciti, questi sono i nostri amplificatori che ormai sono conosciuti, il piccolo David, il più grande di là, il unico, e quello che facciamo nuovo, non volevamo cambiare questo, è un successore, piacciono moltissimo, però abbiamo detto dopo tantissimi amplificatori venduti, facciamo una serie a deluxe proprio con delle prestazioni ancora più alto livello, ed è questo, se ci muoviamo un attimo di là, ecco, vedete questo è il deluxe, è molto simile all'altro, ma è più potente, quasi la doppia di potenza, e ha un preamplificatore veramente in classe A discreto, fatto a transistor, non a integrati, è un preamplificatore di altissimo livello, e questo è un prototipo ancora non in serie, sarà in serie in settembre, poi vediamo, comunque a Francoforte la richiesta era molto alta, e ci fa molto piacere, perché ovviamente è un prodotto anche un po' più caro del solito, però avendo dei clienti molto fideli, che usano il nostro materiale, si trovano quelle che anche lì, quando adesso mettono 500 euro in più, e compro un bel appicatore.